Sei senza punti. Sul serio? Mi stai prendendo in giro perché non ho punti? Ti informo che sono una forma geometrica per ciò che sono, e se avessi anche un punto non sarei più lo stesso me. A parte questo, non avrai nessuna ricompensa se prendi in giro un dannato cerchio. Io mi piaccio così come sono. Spero di essere stato chiaro e che tu abbia capito. Sei comunque senza punti. Ho letteralmente la forma di un punto figlio di...